Uno dei sistemi intelligenti utilizzati per rendere antisismico un edificio sono i dissipatori sismici. Di che cosa si tratta? Immaginiamo questi elementi diagonali appunto come se fossero degli elastici. Quindi si tratta di irrigidire una struttura, immaginiamoci appunto una struttura tipica in cemento armato, pilastri e travi, dove abbiamo più modi tradizionali. Qui dietro vediamo quello classico, mettendo due diagonali rigide praticamente irrigidiamo una struttura. Qui invece il gioco è diverso perché si tratta di elementi che sono un po' come degli elastici appunto. Fisicamente sono delle molle o dei pistoni simili a quelli delle biciclette, insomma degli ammortizzatori. Praticamente che cosa fanno? Assorbono una parte del movimento, quindi se non ci fossero avremo praticamente una struttura che si muove e i nodi, trave, pilastro rischiano. Quando invece abbiamo questi elementi, la struttura un po' oscilla, ma è un'oscillazione controllata. Lo vediamo mettendo in funzione la nostra piattaforma e modificando la frequenza del terremoto, vediamo che l'edificio si muove, ma è un movimento controllato e una buona parte dell'energia del terremoto che la struttura deve reggere, deve sopportare, viene assorbita appunto, viene dissipata proprio da questi elementi. E questo è un grande vantaggio appunto e rende una struttura antisismica. Grazie. 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 Grazie.